Signori avventure notturne in quel di Punta Marina verso Marina di Ravenna come vedete tutto fottutamente buio, forse vedete qualche macchina in lontananza questa cosa la voglio assolutamente riprendere, non si sa mai e niente, io sono qua in giro in Graziella, praticamente non mi vedo sto rischiando la vita in un certo senso perché è bellissimo nessuno mi può vedere perché non ho neanche un faro, neanche un catarifrangente quindi sono assolutamente... intanto vedete le macchine qua che passano, perfetto io intanto sono qui, voi non potete ovviamente vedermi perché non c'è luce e io poi sto filmando la strada e che dire, è un'emozione perché sto praticamente rischiando la vita alla cieca ma è una cosa bellissima, per di più sta piovendo ed è doppiamente un'emozione, bellissimo, strafigo